L'intelligenza artificiale generativa non si limita soltanto a lavorare con testi e immagini, ma anche con l'audio. Oggi vedremo lo strumento più avanzato in questo campo, uno strumento che ci permetterà di manipolare delle voci, addirittura di generarne di sintetiche e anche di clonare delle voci reali. L'azienda che più di tutte ha fatto degli enormi passi avanti nell'ambito dell'audio per la generazione di voci sintetiche, ma anche per la clonazione di voci reali, si chiama Eleven Labs. Se andiamo al sito beta.elevenlabs.it, I.O. ci spiegano che hanno creato quello che secondo loro è il software di voci sintetiche più realistico e versatile. L'obiettivo è quello di aiutare creator, publisher ad ottimizzare la produzione di audiobook, di articoli di giornale che possono essere trasformati in audio e l'aggiunta di audio a qualunque storia visiva. Già nella home page, senza neanche registrarsi, è possibile provare la funzione di base che si chiama Prime Voice AI. Devi accogliere il cambiamento come regola, ma non come padrone. A questo punto proviamo ad entrare dentro. Io sono già registrato e quindi entriamo direttamente nel mio profilo. Il primo pannello che ci troviamo davanti appena entrato è quello di Speech Synthesis, la prima funzione principale di Eleven Labs, che permette di far leggere un testo ad una voce predefinita. Qui nei settaggi si può scegliere la voce che si vuole, ci sono voci di uomini e di donne, preimpostato questa di Rachel. Possiamo a questo punto inserire un testo che posso prendere da una novella di Oscar Wilde, Il principe felice, giusto per avere un'idea di quello che si può fare. Si clicca su Generate. Direi che con l'inglese è una pronuncia perfetta di una voce che non esiste, una voce sintetica. A questo punto proviamo la nuova funzione che è stata aggiunta da poco e cioè quella che ci permette di usare una lingua diversa dall'inglese. Quindi proviamo Eleven Multilingual Version 1. Proviamo a dargli un mio testo preso da un mio blog, un testo preso dal mio blog. Proviamo sempre con la voce di Arnold. Il marketing aumentato, come ho scritto nel mio libro, si caratterizza non solo per lo sfruttamento in chiave strategica di dati e tecnologia, ma anche perché i destinatari delle sue attività non sono più solo le persone, ma anche e soprattutto le macchine. Direi perfetto, la voce è veramente molto realistica. Ovviamente posso cambiare voce, posso mettere una voce di donna e tutte quelle che già esistono e che sono state create da Eleven Labs. Ma la cosa fenomenale, pazzesca, che proviamo adesso è l'aggiunta di una voce ex novo. Quindi andiamo su Add Voice e vengo catapultato in questo nuovo pannello, che è il pannello della sezione Voice Lab, dove ci sono due alternative. C'è il Voice Design che permette di creare nuove voci, aggiustandone i parametri, è quella dell'instant voice cloning, che permette di clonare una voce. Proviamo il Voice Design per generare una voce nuova. Scegliamo la tipologia, il genere della persona, donna uomo, scegliamo una donna. Scegliamo se la vogliamo giovane o anziana, proviamo l'accento, proviamo un accento che può essere americano, britannico, africano, australiano e indiano. Proviamo un accento britannico. Qui si può decidere anche la forza dell'accento, se è più o meno forte, quindi low o high. E qui c'è un primo testo sul quale testare appunto questa voce. Vedete che la voce è davvero impressionante. Proviamo con l'africano, proviamo ad aumentare anche l'accento. Ok, a questo punto io posso anche usarla in produzione, quindi con altri testi che li posso far declamare. Se aggiungo la voce, gli posso dare un nome e posso crearla, quindi inserirla nel mio diciamo bacino, roster di voci da utilizzare successivamente. Una voce che è stata generata in maniera casuale. A questo punto proviamo la funzione che dovrebbe essere quella più strabiliante, quella dell'instant voice cloning. Si aggiunge una voce e si sceglie instant voice cloning, si preme subscribe e a questo punto si deve scegliere un piano di abbonamento. Ci sono quelli meno costosi con lo starter da 5 euro a 5 dollari al mese e già riusciamo ad accedere alla funzione di instant cloning. Poi c'è creator 22 dollari al mese, independent publisher 99 dollari, growing business 330 e poi piani personalizzati. scegliamo lo starter da 5 dollari al mese e andiamo avanti. Bene, proviamo ad aggiungere una voce nuova con la funzione instant voice cloning, diamole un nome, vincos, perché andrò a caricare un mio file, un file di un podcast che avevo precedentemente registrato di 5 minuti. il sistema carica un sample di 25, mi dice il numero di mega, 9 mega e posso iniziare a sentirlo. Come ogni anno sul mio blog vincos.it faccio il punto sull'utilizzo dei social media in Italia. Ok, a questo punto potrei aggiungere un label per aggiungere una informazione sul magari italiano. Come descriveresti la voce? Voce di un uomo italiano. italiano di circa 50 anni. Confermo che ho i diritti per caricare una voce e quindi di conseguenza anche clonarla e poi posso aggiungere la voce. Vediamo quanto ci vorrà. Beh, immediato devo dire. In pochissimi secondi abbiamo la nostra voce che possiamo editare, rimuovere o usare. Proviamo a fargli dire questo testo del blog precedente. Qui vedete che la voce selezionata è vincos. Ci sono dei settaggi che si possono modificare, ma a questo punto non vedo l'ora di capire e sentire se è stato in grado davvero di clonare la mia voce. Andiamo. Il marketing aumentato, come ho scritto nel mio libro, si caratterizza non solo per lo sfruttamento in chiave strategica di dati e tecnologia, ma anche perché i destinatari delle sue attività non sono più solo le persone, ma anche e soprattutto le macchine. Abbastanza. Potrebbe essere un po' meglio a questo punto. Vediamo se andando nella stabilità della voce, provo ad aumentare la stabilità della voce, la rendo più stabile, quindi meno variabile. La chiarezza mi sembra comunque elevata, ma possiamo anche provare ad aumentarla e proviamo a rigenerarla. Il marketing aumentato, come ho scritto nel mio libro, si caratterizza non solo per lo sfruttamento in chiave strategica di dati e tecnologia, ma anche perché i destinatari delle sue attività non sono più solo le persone, ma anche e soprattutto le macchine. Insomma, ci sarebbe da lavorarci. Bene, a questo punto un altro tentativo che si può fare è quello di scegliere una voce molto più riconoscibile della mia. Proviamo per esempio con la voce del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Proviamo a caricare il suo discorso di fine anno come esempio da dare in pasto al sistema per l'elaborazione e qui confermo di avere il diritto e il consenso per caricare questa voce e anche se non è così. Io qui lo faccio soltanto per scopi di studio e di divulgazione, non per scopi diciamo illegali o fraudolenti o per fare disinformazione. Quindi carico questa voce, sperando nella bontà del Presidente della Repubblica, ed ho immediatamente qui la possibilità di utilizzare questa voce per un messaggio, un messaggio che ho scritto ed è un messaggio ironico. Proviamo a farglielo declamare con i settaggi di default. Care concittadine e cari concittadini, è con viva e vibrante soddisfazione che ho deciso di svelarvi un segreto che conservo da tempo, la mia forte passione per i grandissimi, metallica. Ecco, non male, questa è la prima versione, devo dire che già funziona abbastanza bene, proviamo ad alzare un po' i livelli di stabilità e di chiarezza. Care concittadine e cari concittadini, è con viva e vibrante soddisfazione che ho deciso di svelarvi un segreto che conservo da tempo, la mia forte passione per i grandissimi, metallica. Forse ancora meglio, ma fatemi sapere nei commenti quale delle due voci vi piace di più. Qui il mio obiettivo era soltanto quello di mostrare le potenzialità di questi strumenti, soprattutto per i marketer, ma anche quello di mettere in luce quelli che potrebbero essere gli utilizzi negativi a scopi di disinformazione di questi strumenti di clonazione dell'audio. Quindi sta a noi essere responsabili in questo senso. Come sempre, se ti va di rimanere aggiornato sulle novità all'incrocio tra marketing e tecnologia, non ti resta che iscriverti al canale. Alla prossima!